Se poi me lo lasciate sì Eh ma lui dicevi no No perché lui vuole metterselo in bocca come si usa Se lo mette in bocca non lo metto più Dai ma cos'è sta merda Eh ma perché Chris No, vogliamo fare il video per TikTok Ma Stefano Lo metto in bocca anch'io Te l'ho detto prima, per i soldi Si fa tutto Si fa tutto Beh riprende quasi soldi Però sì